Il candidato al Consiglio Comunale di Trieste, nella lista del Partito Pensionati, Luigi Ferone, ha incontrato i cittadini di Borgo San Sergio, illustrando gli scopi ed i contenuti della mappa del bisogno che, secondo gli interventi del Partito Pensionati, dovrebbe avvicinare il Comune ai cittadini, con l'obiettivo di conoscere la reale situazione di tutti gli abitanti in condizioni di disagio e di intervenire immediatamente e concretamente, attuando adeguate misure di sostegno. Domani, sabato 14 maggio, dalle 9 alle 11, Luigi Ferone incontrerà i cittadini a Trieste, in largo barriera.